Si chiama Kraken e porta il nome del leggendario mostro marino e l'ultima variante Covid che ha messo in allerta gli esperti. Sembra che sia più trasmissibile ma non esiste indicazione di una maggiore gravità rispetto a tutte le altre sottovarianti Omicron, come ci spiega il dottor Stefano Termide della ASL di Brindisi. È una subvariante sempre della Omicron che ha subito una doppia variazione nel tempo per cui è diventata molto più diffusiva. In Puglia pare non si sia ancora registrata la presenza di questa sottovariante, anche se negli ultimi giorni si è avuta un'impennata di contagi da coronavirus. Bari è la provincia italiana con l'aumento più consistente, più 62,6%. In Puglia la situazione è in leggero incremento del numero dei casi e anche nella provincia di Brindisi. Questo sicuramente è dovuto agli incontri in famiglia che abbiamo avuto dopo le festività natalizie. Ma è solo più contagiosa? Sì, è solo più contagiosa. I sintomi sono quelli sempre dell'influenza, quindi mal di gola, mal di testa, dolori muscolari, in qualche caso c'è diarrea, ma è simile all'influenza o al Covid classico che noi abbiamo conosciuto. Sul fronte vaccini ed in particolare per la quarta dose in Puglia si arranca. C'è una leggera nuova attenzione da parte degli utenti nei confronti della vaccinazione Covid. Avevano lasciato andare un po', quindi anche le quarte dosi, soprattutto fino a novembre, erano poche. Adesso da dicembre in poi stanno aumentando, però noi ci aspettiamo un grosso aumento, perché con un 26% di popolazione pugliese che ha avuto la quarta dose è veramente deludente.